Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video o bentornati. Oggi un video diverso dal solito, non parleremo di libri, non mi vedrò, ma avrò una voce insieme alla mia fuori dallo schermo, ossia quello della mia bambina. Vi faremo vedere tutto quello che abbiamo trovato e acquistato da Action. Action siamo andati in un paesino fuori Roma e l'abbiamo trovato lì, ma ha delle cose deliziose. Andiamo così a pescare quello che abbiamo preso e vi facciamo vedere tutto. Dai Emma, parti tu. Ok, il primo è lo shampoo, il bagno doccia, cioè il bagno doccia. Il bagno doccia, il bagno doccia di Stitch. Sì, e Angel. Angel e Stitch, molto carini. Questo bagno doccia a 3 euro e qualcosa, un boccione che poi volendo con il dosatore si può riempire, un litro. Non abbiamo sentito la profumazione. Va bene. Dai pescate Emma, dai. Vai di nuovo? Sì, vai, vai. Questi sono i tovagliolini. Emma ha scelto questi. C'erano tantissime fantasie, dalle più estive alle autunnali, alle invernali. Emma ha scelto questi carinissimi. Molto carini. Con gli uccellini e i fiorellini. Perché poi c'erano anche estive, però... 99 centesimi, vero? Queste erano di autunno, quindi abbiamo preso queste. Vai, prendi te, dai. Poi? Poi i chupa chup. I lip balm chupa chups. Sì. Emma ha scelto questo, questa confezione, da 5 lip balm a tutti i gusti. Che cosa abbiamo? Pesca, fragola, non lo so che cos'altro. Orange, ananas. Molto carini. Molto carini. Anche per fare un regalino, questi neanche 3 euro, mi pare. Che naturalmente proverò anche io, vero? Ok. Poi i... Ha scelto questi elastici per capelli. Sì, carini. Carini. Poi ce ne erano altri diversi un pochino. 99. Non cambiava nulla, però erano carini. 99 centesimi. Poi questo qua... Un album di sticker, tema food, cibo. È carinissimo. È un amore. Se c'erano degli altri ne avremmo presi altri. Sì. Non ricordo il prezzo di questi. Li uso anch'io, vero? Sì, sì. Sulla agenda, li mettiamo... Ma tu li userai di più? Di più, sicuramente. Molto carini. Peccato sì, c'era solo questo. E questo quanto è avvenuto? I sticker, credo, intorno ai 2 euro venivano. Poi? Questo qua. Bagno doccia. Bagno doccia, watermelon, anguria e menta. Molto buono. Ha una profumazione, l'abbiamo sentita. va. Vai, sento io. Buonissima, dolce, ma al tempo stesso fresca. Questo lo useremo tutti. Poi? Poi questa crema. Crema a mani. Abbiamo preso questa, carina, rapite dal pack. Poi la proveremo, non l'abbiamo provata. Il bagno doccia su un euro e qualcosa, credo. Non ricordo tutti i prezzi. pesco. E non ricordo tutti i pezzi. La crema a mani, credo neanche un euro. Poi questa candela di... Emma ha scelto una candela, chupa chups, fragola e panna. Però la più buona è la prossa. Ha un profumo assurdo. Questa è la cosa che è venuta di più, 6 euro circa neanche, però. Però non le usiamo sempre. Senti che profumo. Non l'avevo mai viste le giare così, le candele di chupa chups. Anch'io. Poi blocco di cartoncini. Io ho scelto questa a tema botanica, piante, fiori, io ci faccio, mi diverto a farci segnalibri. Ma ce ne erano tantissimi. Ho dovuto scegliere, ho preso questo, ma ce ne erano davvero tanti, tutti molto belli. Un euro e qualcosa. Poi Emma ha scelto due bombe da bagno. Lei le usa molte, molto carine. Però non le ho più prese da tanto. Lei le usa nella vasca da bagno, mi piacciono molto. Questa profuma tanto, vero? Sì, questa è un po' di meno. Buone. Però sono tutte e due carine. Questa è grande. Questa è un po' più grande. Poi ho preso io questa cipria. Non ricordo il prezzo, ma comunque poco, neanche forse due euro. La proveremo. Ho scelto, c'erano diversi tipi, diversi frutti. Ho preso questa, credo che sia il frutto della passione. Mi serviva da tenere di scorta una cipria in polvere libera. Ma vediamo, non ho grandi aspettative. Comunque per tutti i giorni spero che vada bene. E anche grande. Vediamo quanti grammi è. Scopriamo. 22 grammi. Ah. Ok. Poi per i capelli abbiamo preso questo Argan Oil. Si shakera. Già la profumazione l'abbiamo sentita perché ha perso un pochino nella borsa. Però, insomma, vedremo com'è. Io li uso dopo aver fatto, dopo aver lavato i capelli. Però non è, non è perso molto. No, no. Si è giusto. Ho sentito il profumo che è buono, devo dire. Molto buono, anzi. Volevo farvi leggere dietro. Vi lascio. Ecco. Vediamo. Come sarà. Perché a me me li rende morbidi. Me li rendono morbidi questi spray. Poi questo è uno shampoo secco. Uno shampoo secco che uso esclusivamente io. Perché Emma non ne ha bisogno. Ma io ho la cute grassa e a volte non è che lo uso sempre. Ma in casi estremi uso quello dell'Idol che mi trovo molto bene. Che viene 1,79 euro. Anche questo l'ho pagato lo stesso prezzo. Extra volume. Poi, che dirvi il pack. Guardate quanto è. Puccioso e carino. Poi c'è anche... E aspetta. Boost your hair. Poi c'è anche... Fa vedere come si usa. Dopo averlo spruzzato, vabbè, io spazzolo sempre i capelli. Insomma, questa è una salvezza per me. Ne volevo provare un altro brand. Vediamo questo qui, di action. Poi, questo sapone per le mani è molto carino. È piccolo. Rosmarino e ginger. Rosemary e ginger. Sì, è piccolino. Però credo che faccia la schiuma il dosatore. Non mi vorrei sbagliare. Sì. Speriamo che la profumazione sia gradevole. Non lo so. La prima volta. C'erano anche molti tipi di detersivi per la casa, di tutto. Però io ho preso... Di questa linea, io ho preso solamente il sapone liquido per le mani. 93% di origine naturale. Vediamo. Eh? Poi lo proviamo. Sì. Poi due maschere per il viso. Troppo carine. Io ultimamente non le uso molto, però non potevamo lasciarle lì a 99 centesimi l'una. Guardate quanto sono belle. Le rapite noi proprio nella trappola del pack. Poi c'erano anche degli animali. Sì, e di tu. Tantissime maschere per il viso. Questa in tessuto. Questa alla pesca. Questa di Ariel. E questa all'arancia. Poi non abbiamo sgrufato tanto, non abbiamo cercato tanto perché c'era un sacco di gente. C'era un causo lì negli stand del beauty che non si vedeva tutto alla perfezione. È domenica. Quindi abbiamo buttato nel carrello queste due maschere qua. Poi questa crema per le labbra di notte. Lip mask, un balsamo labbra alla vaniglia per le labbra. Tipo una maschera a 99 centesimi. Sono curiosa. C'era la vaniglia alla fragola. Io ho preso questa alla vaniglia. Curiosa. Molto carina. Stasera la provo. Sono curiosa. Questo è un body scrub molto carino. Al cocco. Esfoliante. Non lo avevo. Lo usavo uno ma l'ho terminato. Dell'idol mi pare era. E vediamo un po' come sarà. La profumazione al cocco piace molto. Ti piace? Sì. Questo è sempre la stessa linea? Dello scrub è un balsamo per i capelli. Conditioner al cocco. Non c'era lo shampoo. Sennò avrei preso anche lo shampoo. Però per capelli secchi e danneggiati. Lo usiamo tutte e due. Va bene amore? Va bene. Poi ho preso acqua micellare. Acqua micellare. Questo boccione di 700 ml. 3 in 1. Rimuove make up per occhi, labbra e viso. A 2,49 euro. Io prendo quelli della Garnier. Mi ricordava un po' quello. E lo proverò. Poi vi dirò. E poi della stessa linea. Credo che sia il latte detergente. Latte micellare. Latte micellare. Vediamo un po'. Li proverò tutte e due. La differenza. Vediamo con quale magari mi trovo meglio. Anche questo comunque sui 2 euro. Questo per la scena. Poi un odorante che ricorda molto il Nivea. Vediamo, proviamo. Speriamo abbia la stessa efficacia. Pink. Ho preso questo. Pink Passion. Vediamo. Poi 2. 2. Una crema per il viso. Face cream. All'acido dialuronico. Questa qua. Mi ispirava. Ce n'erano talmente tante che l'ho presa un po' a occhi chiusi. Più lo scrub. E' sempre idratante. Sì, è sempre idratante. Acido dialuronico. Questi due. Fare lo scrub e poi la crema viso. Anche queste su 2 euro. Insomma, tutte queste cose. 2, 1, 2, 3 euro. L'ultima cosa. È stessa cosa però. Un altro bagno doccia. Sì. È sempre di questo. Un altro bagno doccia però al mango e cocco. Profumazioni fruttate. Un po' più estive. Però ci piacciono sempre molto. E queste qua. Poi abbiamo... No, ci sono altre cose. Ancora? Un pacco di gomme. Ho preso queste. Che le tengo in macchina. Poi le porto. Sugar free. Non so che cosa. Spero siano buone. Speriamo che non mi cadono i denti. Vabbè. 1,69 euro. Mi ricordo. E poi, ultima cosa. Ah, non l'avevo vista. Una maschera per i capelli. Air mask smoothie. Alla bacca di goji. Ho preso questa. C'era anche un'altra all'avocado, mi pare. Verde. Se ci penso, Ben. Ho preso questa. Penso che avrei i capelli rossi. Abbiamo terminato qui. Questo è lo scontrino. Abbiamo fatto per oggi il nostro shopping. Un po' cose utili, un po' altre meno. Però siamo molto contenti, è vero? Perché abbiamo trovato Action la prima volta. Per la prima volta. Noi vi salutiamo. Ciao. Fai vedere la manina. Ciao a tutte. Ciao. E ci vediamo nel prossimo video. Questo era un video un po' così, diverso. e ci rivedremo a parlare di libri. Grazie per averci tenuto compagnia. Grazie. Ciao. Ciao.